Il gestore dell'impianto di podere rota, la XAI, ha chiesto la sospensione della richiesta di ampliamento della discarica. In data 16 febbraio, spiega proprio una nota del gestore, la XAI ha inviato alla Regione Toscana la richiesta di sospensione del procedimento autorizzativo unico regionale relativo all'ampliamento del sito di podere rota, in attesa di un piano di caratterizzazione approfondito che ricostruisca in modo puntuale la situazione relativa all'intera area. La società ritiene di aver svolto correttamente, si legge ancora, nel rispetto delle disposizioni vigenti la propria attività, tuttavia nell'ambito di una collaborazione con tutti gli enti coinvolti, ha preferito richiedere una sospensione del piano per rendersi proattiva nella definizione del piano di caratterizzazione che la società sta già predisponendo per la presentazione agli enti competenti. Nei giorni scorsi c'era stato l'allineamento del comune di Terranova Braccellini, che è socio di XAI, alla posizione di altre amministrazioni del territorio, sul sì alla sospensione. Si tratta di un passo importante che potrebbe dunque portare ad una effettiva chiusura della struttura.